Ci siamo amici sportivi, ben trovati, 17.46 minuti di questo pomeriggio del martedì nella settimana che conduce il Napoli ad affrontare la Juventus, appuntamento sabato alle 18 sul terreno di gioco del Maradona dove ha maramaldeggiato ieri il Benevento in un'amichevole tesa a celebrare l'anniversario del club Sanita che ieri proprio compiva 92 anni ed era anche il giorno del 17esimo anniversario della gestione della Orentis alla guida della società sportiva calcina. Come è andata? È andata che il Napoli era privo di ben 16 calciatori di prima fascia, che Luciano Spalletti ha dato spazio praticamente a tutti i ragazzi della primavera con qualche indicazione molto interessante, mi riferisco ad esempio al 2003 Vergara ma anche di Costanzo a buoni numeri, insomma si è lasciato spazio ai ragazzi di quella che inizialmente nelle intenzioni di della Orentis avrebbe dovuto essere la cantera, risultato finale. Il Benevento si è imposto per 5 a 1 con una prestazione che sicuramente fa ben sperare Fabio Caserta, l'allenatore che però è consapevole che le amichevole restano le amichevole e che il campionato di Serie B è sicuramente un'altra storia e che il prossimo banco di prove è già molto indicativo, casalingo con il Lecce. Il Napoli, oggi hanno parlato alcune ex bandiere del club azzurro, è stato particolarmente critico Alessandro Renica che dice noi non abbiamo mai perso, anche nella più banale delle amichevoli, in maniera così fragorosa e netta contro una squadra di Serie B. Ci sono stati giornali che hanno parlato di tonfo e di figuraccia del Napoli, partiamo dal presupposto che non fa mai piacere perdere e ha maggior ragione perdere per 5 a 1 in casa contro una squadra di Serie B per quanto amica, per quanto vicina al club azzurro. A proposito di questo aspetto, andiamo alle dichiarazioni congiunte che sono state rilasciate ai microfoni di 8 Channel, dell'amica e collega Sonia Lantella nel pregara di Napoli Benevento, è incominciato dell'Aurentis, vediamo la slide che l'ha toccata piano e ha fatto bene da questo punto di vista, ricordando una cosa che non deve mai essere sottaciuta, lo scudetto mancato, lui dice scippato, della stagione 2017-2018, rabbia dell'Aurentis, sicuramente ne parleremo tantissimo perché i tifosi dei quali abbiamo stimolato anche il dibattito e le considerazioni su questa slide, sulla pagina Facebook di Canale 8, si sono scatenati, perché non lo ha fatto subito, perché non ha urlato al mondo intero lo scandalo il giorno dopo quell'Inter-Juventus? Io direi che avrebbe dovuto farlo anche prima, perché quello fu un campionato che tutti ricordano, quindi sul tempismo dell'Aurentis è stato beccato, il Presidente è stato beccato anche e ancora oggi sui social dai tifosi del Napoli, magari ripercorreremo un po' le tappe diverse, anche prima perché tutto riparte, tutto va fatto partire dalla finale di Supercoppa, quella indegna di Pechino, quando lì dell'Aurentis a caldissimo richiamò la squadra, impedendo alla squadra di Mazzati di andare a ritirare la medaglia del secondo, in quella partita veramente maledetta per come fu gestita dalla terna arbitrale guidata da Mazzoleni, però ne parliamo tra poco. Questo il passaggio di De Laurentiis, gli ha fatto eco Oreste Vigorito, Presidente del Benevento, che ha detto quello che vediamo nella slide successiva. Vediamo un po', certe volte, perché anche il Benevento è stato protagonista di episodi tutt'altro che esaltanti nell'ultimo campionato di Serie A, mi piace ricordare un po' meno ai Sanniti, sicuramente Benevento Cagliari 1-2 con le clamorose decisioni, anche in quel caso avallate dal Var Mazzoleni, certe volte dice Oreste Vigorito, c'è chi non vince lo Scudetto e altri che vanno in B per lo stesso motivo, perché scippati? Questa è una risposta alle tante domande dei tifosi del Napoli, perché De Laurentiis non ha fatto la guerra subito il giorno dopo Inter-Juventus? Risponde Vigorito, dobbiamo continuare a restare in questo mondo, quindi accettare anche certe cose, piaccia o no? E poi ha chiuso, ha completato il suo intervento dicendo farei una sinergia con De Laurentiis e lo seguirei, alla fine dice, dovessimo fonderci, il Presidente sarebbe De Laurentiis e io lo seguirei come si faceva, come facevano i cavalieri con Re Artù. Beh, parole, parole importanti alla luce di un rapporto che è sicuramente ottimale tra i due Presidenti. Intanto siamo in attesa dell'esito del ricorso avanzato dal Napoli in merito alla squalifica di due turni inflitta ad Osimen, la riunione è incominciata alle 16, quindi nel corso di linea calcio contiamo attraverso i nostri aggiornamenti di potervi rendere conto anche dell'ultima parola, cioè il Napoli giocherà sabato sera potendo contare su Osimen o dovrà farne a meno. E poi ancora, tornando sulle indicazioni positive di ieri, terzo cartello, vediamo un attimo, quello relativo alle parole di Gianluca Grava che ieri ha assistito dal palco autorità alla partita tra Napoli e Benevento e non ha nascosto la sua emozione, ha detto che Vergara ha le potenzialità per diventare importante, ha emozionato Gianluca Grava nel vedere all'opera lui, così come di Costanzo, così come gli altri ragazzi che sono stati mandati nella mischia da Luciano Spalletti nel poco onorevole 5-1 finale, d'accordo, di un test amichevole, tuttavia questo va ricordato e vanno ricordate anche le 16 indisponibilità denunciate di fatto ieri da Luciano Spalletti. A proposito invece di Davido Spina, e poi apriamo le linee ai nostri tifosi incominciando con l'alternanza al telefono, dovremmo avere a brevissimo la conferma dell'organizzazione del charter che dovrebbe riportare in Europa ben 12 giocatori, tra cui anche il portiere del Napoli. Secondo quanto ha riferito Sky Sport, l'aereo partirà subito dopo il match tra Colombia e Cile e arriverà a Parigi, quindi Ospina è atteso a Napoli, venerdì attorno alle 15, questo per risolvere, per fugare qualsiasi dubbio, qualsiasi problema relativo alla difesa della porta. Intanto l'Italia questa sera tornerà in campo contro la Lituania e Roberto Mancini è stato chiaro, deluso per i due precedenti pareggi, però si le vinca le prossime tre l'Italia per aver certezza di partecipare al prossimo campionato mondiale in Qatar. Apriamo la serie dei collegamenti e andiamo al telefono. Pronto? Pronto? Sì. Buonasera, sono Enzo da Napoli. Ciao Enzo, benvenuto. Ciao Silber. No Silber, volevo tornare un po' sulla partita di ieri, anche se lo so che non fa testo, però penso che vorrei esprimere alcuni miei pensieri, riguardo al portiere io penso che Martella non può essere il terzo portiere del Napoli, per cui opterei per la soluzione mirante se è possibile, per quanto riguarda Zanoli un passo a sinistra non lo vedo, in alcune chiusure non mi è piaciuto, e per quanto riguarda solo Onas, se si reprimesse un poco sarebbe un buon valore aggiunto. Cioè tu dici se vi... Molte giocate individuali, molte giocate individuali, vorrei sapere tu cosa ne pensi. Grazie Enzo, perché sono tutti e tre temi molto interessanti che tu proponi. Grazie, grazie, buon proseguimento di serata, proponi a me chiedendo una valutazione, ma saranno molto più interessanti e importanti le valutazioni degli altri telespettatori che andranno a succedersi e a succederti al telefono. Marfella non è da Napoli, è il terzo portiere del Napoli, questo ragazzo, secondo me nella logica del terzo portiere può starci. Poi è chiaro che si è trovato i riflettori addosso con l'eventualità che potesse essere addirittura impiegato in totale emergenza contro la Juventus. Posso dirti per certo che il Napoli andrà avanti così, quindi con Ospina che prenderà il posto di Meret, Marfella che rimane il terzo portiere e non si ritornerà sul mercato. Però secondo me nella logica dell'alternanza, quella estrema, nella logica del terzo portiere un ragazzo fatto crescere in casa e mandato a giocare in Serie C può anche starci affinché possa crescere ulteriormente nel bagaglio di esperienza vicino a giocatori di livello internazionale come quelli che lo precedono nelle gerarchie Ospina e Meret. Per quanto riguarda Zanoli, allora io ti dico, Zanoli fisicamente è molto forte, ha un'ottima lettura delle fasi di gioco, chiaramente nasce come terzino destro ed è quella la posizione che gli aspetterebbe. Impiegato a sinistra magari ha qualche difficoltà in più, ieri il test secondo me lui se l'è cavato anche abbastanza bene, piuttosto ho qualche perplessità a proposito della condizione fisica di Juan Jesus, perché mi pare che i chili persi da Lobotka li abbia presi Juan Jesus, che comunque nelle ultime due stagioni ha messo insieme soltanto nove presenze, quindi si può capire. Infine Unas, Unas è innamorato del pallone, chiaro che ieri il Napoli faceva proprio fatica a costruire gioco e l'individualismo di Unas ha fatto anche bene ad un certo punto perché era l'unico che riusciva a portare qualche minaccia, poi è chiaro che è da vedere invece in un contesto in cui ci sono tutti gli altri titolari, lì secondo me anche Unas cambierebbe il suo atteggiamento e questo feeling troppo spiccato con il pallone, va mettiamola così. Andiamo al telefono, pronto? Buonasera Silvio. Buonasera a te caro amico, ciao. Sono Francesco Lasoletto. Ah, ben arrivato Francesco, come stai? Bene, Caso. Allora, ti ascolto. Cioè, i presidenti, De Laurentiis e Vigorito, o la dicono tutta, o si stanno dite. Ok? Perché non possono fare con le dichiarazioni dopo quello che è successo nel 2018. E addirittura De Laurentiis prende Spalletti in banchina. Spalletti, è complice nel 2018. Ok? Poi uno dice una cosa e quell'altro dice il resto. E Vigorito dice il resto. Cioè, allora, se i presidenti sono vittime di questa situazione, perché gli fa bene che la Juventus fa circolare soldi, giocatori, procuratori, tutto quello che circola, allora si devono stare ditti. O ritirano le squadre dal campionato, oppure non parlano. Certo che... No, hai ragione. Hai pienamente ragione, nel senso che... Allora, proviamo a ragionare. Perché il tifoso del Napoli cosa contesta De Laurentiis di non aver fatto il matto il giorno dopo Inter-Juventus? Io, Francesco, ho ricordato che quando lo fece nell'immediatezza dello scandalo di Pechino, poi dopo cosa successe? Che le prese di santa ragione. Le prese dall'opinione pubblica, per quanto può valere, perché sappiamo anche come, in che parte, in che proporzione, diciamo, è costituita. e le prese dagli organi disciplinari. Poi probabilmente ha capito che non gli sta bene, non gli stanno bene addosso i panni di Don Quixote. E lui non è così. Però io ricordo anche che magari non il giorno dopo, ma qualche settimana più tardi, proprio in ritiro a Di Maro, alla fine di quella stagione incredibile in cui si perse lo scudetto, perché solo in Italia si poteva perdere lo scudetto con 91 punti e con quella qualità di squadra, quasi in maniera rassegnata, rispose ad una delle nostre domande nel teatro di Di Maro e che dobbiamo fare? Ragazzi, lo sappiamo che ci hanno scippato lo scudetto. Quindi non è vero che non lo ha mai detto. Lo ha detto con toni di rassegnazione. Allora, subiscono. Allora, subiscono in silenzio. Se la prendono così. Tanto, alla fine, loro non ci mettono sotto, ci mettono le chiacce. Come è successo l'anno scorso. Perché poi il Presidente non si deve svegliare la settimana prossima e dice Napoli-Verona, chissà cosa è successo. È perché Napoli-Verona è la stessa cosa. È la stessissima cosa. È lì, è complice anche lui a questo punto. E i tifosi del Napoli ci rimettono. E non è giusto questo. Io non ti dimenticare che sono tifosi dell'Inter e questo mio spalletto sulla panchina non ci deve stare là. Perché poi, come dici tu, c'è stato Vigorito che ha rafforzato il concetto. Perché anche il Benevento purtroppo quest'anno in seriale è stato fortemente penalizzato da alcune decisioni arbitrali. e il concetto che era stato già espresso da De Laurenti si è stato rimarcato rafforzato da Vigorito. Però, dici tu, le cose le si dica con chiarezza estrema perché il tifoso lo meriterebbe. Allora, non è tutto così. No, purtroppo, come fanno i negozianti quando vengono tutti quanti vengono struzzinati, gli tolgono i soldi tutti quanti per pagare il pizzo e tutto il resto. Allora, noi siamo in queste condizioni. questo possiamo fare e purtroppo ci fanno campare così. Altro non c'è. Allora, non mi accontentate di questo. Allora, il tifoso capisce e va avanti. Ma noi che ogni volta ricominciamo da capo i ritiri, i più campionati, il calciomercato e tutto il resto a presto. E soldi, investimenti, abbonamenti. Oh! E che? Veramente signifattisce il vostro. E non è fisso questo fatto. Poi, giustamente, ma pure i giornalisti, cioè, pure voi, mi rendo conto, ma che cosa stiamo raccontando? Cosa raccontiamo? Francesco, per favore, allora si devono stare tutti i presidi e non devono parlare. Subiscono l'intelletto e vanno avanti. Francesco, per favore, rispondi a questo telespettatore che è di marca troll, quindi non ha identità, però dichiara il suo tifo e lo capirai subito. rispondigli, secondo il tuo pensiero con l'espulsione di Pjanic l'Inter avrebbe vinto e il Napoli avrebbe battuto sicuramente Fiorentina e Torino, ma la partita con il Verona non ti ha fatto aprire gli occhi, se poi hai tutte queste certezze regalami sei numeri e fai svoltare la mia vita. cosa gli risponde? Ma che gli vuoi rispondere uno così? Cioè, ma secondo te quella partita là, quella partita del 2018, la Juventus era morta, era morta. Quella partita là se la ricordi bene, se voi andate a rivedere, Icardi la stanno vincendo da solo, da solo e Icardi si devono mettere in destra i gioventini, farà l'ottavo attaccante, ma a Torino non ci andrà mai a giocare, a mai ci andrà a giocare, perché in Italia l'è stata cacciata via per colpa di quella partita. Dicela su deficiente che scrive, anzi, dopo gli vado a rispondere io. Vabbè, vabbè, Francesco un abbraccio, andiamo avanti, proviamoci. Grazie. Almeno, ciao, ciao. Alfredo Tizzano, domani sera, sì, chiaramente, scusami, Alfredo è domani che gioca l'Italia contro la Lituania, saluto Pietro Villano, Pietro Svaldo Campani invece scrive, non faccio parte di quelle decine di milioni di pseudo allenatori tecnici, opinionisti, sportivi, ma da sportivo noto che la Procura Federale non si attiene allo spirito della legge dello Stato in cui opera, la legge uguale per tutti, ma ad una giustizia suddita del colore delle maglie. Devo dirti, allora, si tratta di giustizia domestica e sono logiche che caratterizzano un po' le procure federali di tutte le varie discipline sportive, te lo assicuro perché anche io ci sto passando, nel senso che attendo una sentenza che dovrebbe arrivare il 21 di settembre che riguarda il tennis perché da tesserato nel caso mio ma anche da giornalista, quindi io direi prima da giornalista poi da tesserato di una federazione avevo semplicemente fatto il mio lavoro denunciando vicende dolose acclarate, acclarate, legate all'attività tennistica però protagonisti insomma con protagonisti personaggi forti all'interno di questa federazione quindi da lì il contenzioso e il braccio di ferro che potrebbe alla fine vedermi anche penalizzato quindi penso un po'. Massimo Moccia contro la Juventus c'è poco da fare per questo Napoli-Verona puzza di bruciato o di ricatto Francesco Arragione per Massimo e poi Rossella e Pasquale Maresca amichevoli inutili e dannose in questi periodi con il campionato appena iniziato almeno per le nazionali e per un valido motivo e sappiamo i danni che hanno provocato e ancora Ernesto la partita di ieri non fa testo ma ci vorrebbe Mirante secondo me Marfella non dovrebbe fare il terzo portiere andiamo al telefono pronto Ciao Silve buonasera caro Aurelio come stai? eh bene tutto bene 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 vorrei rispondere a quel tifoso della Juve che ha scritto il messaggio ma lui è tanto sicuro che senza le sette rifandezze che furono fatte dagli arbitri in quel campionato la Juventus dopo la partita di Torino che il Napoli vinse 1-0 con col di Curibali sarebbe arrivata a ridosso del Napoli lui è tanto sicuro ci dia 4 numeri così ci facciamo 4 risate sei un grande Aurelio sei un grande apprezzo la tua la tua ironia la tua simpatica Arguzia con la quale hai risposto all'amico tu ad esempio hai un nome lui no ce ne facciamo tutte ma tutti quanti 4 risate ce ne facciamo e se vuole gli elenco le sette rifandezze dove sono state fatte con chi sono state fatte con quali arbitri sono state fatte è chiaro? quindi se lo mettesse bene in terra lui e tutti gli uventini come lui poi passando alla partita di ieri Silve io sono indignato mi sono indignati io sul 3 a 1 spendo il televisore non ho voluto vedere quello scendio perché si è visto subito si è visto subito che non avevano voglia di giocare non volevano giocare quella partita si è visto subito io se fossi in De Laurelis tranne i ragazzi della primavera che ha fatto entrare ed erano praticamente quasi tutti i ragazzi della primavera poi beh e allora quello che è la prima squadra Aurelio aspetta scusa ti dico per l'informazione per informazione giusta informazione che ieri mattina lo stesso gruppo aveva fatto allenamento quindi l'idea ecco di una partita amichevole non lo so si può ragionare anche sull'idea di un amichevole così no ma io quelli che sono scesi in campo ieri ieri sera e mi riferisco a quelli della prima squadra non certo ai ragazzi della primavera che non hanno nessuna cosa io io se fossi in De Laurelis gli darei dieci giorni di ritiro forzato e non li farei giocare sabato sera tutti 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 quanti perché non è possibile offrire quello spettacolo è stato un obbrobrio per i tifosi del Napoli quella partita scusa scusa lo sfogo perché poi diciamo a tutto c'è un limite perché non cioè non si fa così dovete giocare questa partita e giocatela non è che Gerardo Gerardo Donnarumma Gerardo Donnarumma ti scrive e scrive era meglio fare una bella mangiata vergognoso appunto una bella tavolata così con i fiaschi di vino Massimo Massimo Moccia invece a proposito della querelle delle parole che sono state ripetute da De Laurenti si era dice De Laurenti non si è lamentato e i tifosi dove erano avete visto qualche protesta ci rassegniamo tutti contro un calcio marcio devo dire ma che dobbiamo fare no che cosa puoi fare cosa puoi fare allora allora sì Silber allora contro il potere come fai a combattere perché è un potere totale non è un potere che tu dici hanno solo una forza no hanno per lo meno dieci forze hanno i soldi le multinazionali hanno il potere mediatico hanno il potere sugli arbitri hanno hanno tutto ma come si fa a combattere sarebbe una battaglia come come De Laurenti si è la besta la battaglia quando ha voluto approdare frontalmente questo problema e ha fatto bene ieri a rimarcarlo così si sa affinché si sappia è meglio affinché non si dimentichi come? no affinché non si dimentichi affinché non si dimentichi appunto affinché non si dimentichino certe cose è chiaro è chiaro va bene Aurelio ti ringrazio e ti saluto ti ringrazio ciao buonasera ciao caro amico ciao Pietrangelo Chier che mi scrive presidente del Napoli Club Udine Silver purtroppo ho avuto una voce da un amico Juventino che il ricorso quindi un'indiscrezione che il ricorso per la sanzione per la squalifica di due turni a Osimen sarebbe stato già respinto spero di no ma il rischio è concreto il rischio c'è è concreto assolutamente Pietrangelo leggo un po' di messaggi poi andiamo in pubblicità perché ci raggiungerà subito dopo Tommaso Mandato Ciro Zeno scrive Silver la smettessero di parlare solo di Pjanic a Milano quell'episodio è troppo riduttivo è solo la ciliegina sulla torta ma ci siamo dimenticati contro la Lazio il Genoa la Fiorentina il Torino anche contro lo stesso Benevento rigore assurdo su Iguain nel 2018 neanche terzi dovevano arrivare io ho sempre detto che in un campionato regolare il Napoli avrebbe vinto con almeno 7-8 punti di vantaggio sulla Juventus con 91 punti il miglior gioco d'Europa solo in Italia non si può vincere poi ancora il Benevento ha giocato per vincere scrive Raffaele Marrocco vedi i 5 cartellini gialli il Napoli passeggiava anche questo è vero Giuseppe Di Palma scrive perdonami ma con un allenamento mattutino perché organizzare questa amichevole da ieri sera ho seri dubbi sull'affidabilità delle seconde linee e di qualche titolare questo è un argomento dal quale ripartiremo con Tommaso Mandato subito dopo la pubblicità senza naturalmente frenare la vostra libera iniziativa libera scelta dei temi che trattiamo e che tratteremo da qui fino a circa le 19.30 in linea calcio pubblicità eccoci eccoci rientriamo sono particolarmente felice anche se si era inceppato il pandino nel momento in cui abbiamo accolto Tommaso Mandato Tommy ciao buonasera buonasera e bentornato ti ascoltavo mentre ti intrattenevi per quanto a distanza Skype con i nostri colleghi della regia ti vedo in grande forma ben ritornato grazie grazie a te sì è vero dalla regia a un certo punto abbiamo perso il segnale soprattutto acustico non si riusciva a capire bene il messaggio però tutto bene sono contento anche io di ritrovarci e soprattutto di aver ripreso le belle e buone abitudini allora sì andiamo al telefono non prima di aver rubato una battuta a Tommaso sullo spettacolo sulla partita di ieri ma guarda io memore di quelle che sono le tue abitudini ho girato su Berrettini e ho visto una partita bellissima nel senso che ho visto praticamente lo sport vero perché quello che abbiamo visto ieri sera a Napoli purtroppo è stata davvero una una pessima immagine io sono d'accordo che chiaramente il risultato conta poco non è questa la cosa importante però io credo che indossare quella maglia in qualsiasi occasione devi darti quello stipulo in più per poter dare il 101% soprattutto poi in quei calciatori che non sono titolari fissi quindi hanno poche occasioni per potersi mettere in luce hanno fatto meglio i ragazzi liberi scevri da qualsiasi pensiero piuttosto che i cosiddetti rincalzi da cui si aspettava qualcosa veramente in più mentre noi aspettiamo l'esito del ricorso del Napoli come andrà a finire facciamo un pronostico ti vedo già sorridere ci arriverà la prima vittoria dell'avvocato Grassani o sarà rinviata ancora una volta? mai dire mai del calcio prima o poi insomma come i tabù i numeri dei grandi statistiche prima o poi insomma deve uscire quindi ci auguriamo che ci sia adesso perché ci serve veramente come il pane così bene lì davanti e a parte gli scherzi spero credo che ci siano i presupposti per poter ottenere qualcosa di positivo però tu come ben sai che ormai sei un grande conoscitore di quelle che sono le sentenze di diritto sportivo è talmente imprevedibile che fare qualsiasi pronostico è quasi come quello di fare il tabaccaio che mi ha fatto si è reso punto in questi giorni e la sua grande impresa andiamo al telefono pronto buonasera Silvere buonasera al mio amico tutto in rosso Tommy ah caro Umberto benvenuto buonasera come stai ah io sto benissimo tutta a posta bene siamo contenti certo non come il vostro amico collegato in Skype perché nonostante io abbia una discreta abbronzatura a lui c'entra avanti in giacca e cravatta quindi si può permettere questo e altro voglio dire che dire un abbraccio c'entra avanti grazie grazie allora Umberto vai ti ascoltiamo quante decine di minuti ho per commentare le ho sentito ho sentito solo dalla regia no allora rapidissimo vai vai le seconde linee del Napoli penso che lo sappiamo tutti per usare un eufemismo su una chiave cioè non servono no scusate questo però sta nel dizionario io parlo con le parole che sono nel dizionario allora il Napoli silver il Napoli può contare su 15 calciatori punto gli altri non servono lo sappiamo tutti manca un titolare a sinistra manca una riserva a destra a Di Lorenzo manca un quarto centrale manca un centrocampista e per me anche perché questo Aghissalo conoscono forse solo a Londra e dintorni sperando che sia un fenomeno ovviamente e per me manca anche un centravanti perché c'è puntare tutto su Osimen che continua a essere una giovane promessa e che è giusto che venga squalificato per due turni per quello che ha fatto e continuare a puntare su Mertens che ha un anno in più che con tutti i rispetti è un signor centravanti ma un anno in più e il centravanti in giacca e cravatta che sta sorridendo sotto i baffi sa che significa avere un anno in più queste sono delle mancanze ataviche soprattutto in difese a centrocampo che ci portiamo indietro da diversi anni dal dopo Sarri quindi tutto quello che è successo ieri per me non mi meraviglia più di tanto il Napoli non può contare sulle seconde linee il Napoli a 15 calciatori in rosa per cui vi faccio la domanda e poi attacco perché altrimenti giustamente mi censurate allora io credo che per aspirare al quarto posto obiettivo per me estremamente difficile perché Napoli è una squadra che non si è rinforzata tanti si è indebolita quest'anno perché ha perso Yusai che voi ve lo ricordate a sinistra nelle ultime cacate che ha fatto le ultime 3-4 giornate ma Yusai è il terzino destra di riserva di Lorenzo allora Goulam non esiste quindi il terzino sinistro non esiste abbiamo perso Bagareco abbiamo preso questa giovane promessa abbiamo perso Maksimovic che voglio dire non era un fulmine di guerra ma Juan Gessus te ne riesce chi lì in sovrappeso in questo momento cioè io non credo che Napoli sinceramente si sia in qualche modo rinforzato anzi si è indebolito quindi per me per arrivare nei primi 4 posti deve abbandonare tutto cioè deve uscire al più presto possibile da tutte le altre competizioni e visto che punta su solo 15 calciatori 11 giolari e massimo 4 riserve ma con tutto bene voglio dire deve solo puntare su quello e comunque resta difficile poi ultimo inciso e vi lascio veramente non voglio più sentir parlare dello scudetto scippato da Sarri perché per me la colpa non è degli arbitri o meglio la colpa non è solo degli arbitri è di quello che è successo che abbiamo visto tutti la colpa grossa è della società da Rosilver perché tu e lo sai bene è da Cagliari Juventus che si è giocato a febbraio da quello schifo di fallo di Bernardeschi con tre metri di braccio larginale di rigore che nessuno ha parlato e non ci potevamo sperare che parlasse la domenica sportivo Sky la doveva doveva presentarsi in prima persona il presidente del calcio Napoli davanti alle televisioni e dire lo schifo che stava succedendo onde evitare poi tutto quello che è successo dopo perché se tu non parli poi c'è Firenze poi c'è Torino Juventus poi c'è Lazio Juventus e in ultimo c'è Inter Juventus allora se tu non parli quando c'è la prima merdata che prendi in faccia il primo secchio che pigli in faccia e allora poi dopo è inutile cioè è inutile poi ricordare che gli scudetti non si vincono così un abbraccio forte vi ascolto ciao Tommy un bacione ciao partiamo dalla coda partiamo dalla coda poi andiamo sull'organico e stendiamo naturalmente il pensiero di Umberto ai nostri telespettatori cioè cosa ne pensano a proposito della Rosa che ha a disposizione Luciano Spalletti ma partiamo dalla coda perché si rimprovera lo stanno praticamente facendo tutti no Tommaso dopo le dichiarazioni di ieri di De Laurenti su cui ha messo il carico su cui ha messo il carico vigorito cui ancora brucia tantissimo Benevento Cagliari della scorsa Serie A sì ma la guerra la doveva fare subito io mi sono permesso di ricordare che quando ha provato a fare il donkey shot lo hanno rispedito al mittente con un paio di calci nel sedere qualche sanzione disciplinare dopo Pechino quando si è alzata la voce dopo Napoli-Atalanta con Ancelotti da quel momento in poi e per un anno e mezzo il Napoli non ha avuto più un rigore a favore e solo episodi sfavorevoli decisioni sfavorevoli come la mettiamo? Cioè qual è il tuo pensiero? Bisognava fare la crociata già ad incominciare da Cagliari-Juventus perché io questa mattina ho chiesto ai nostri telespettatori facciamo una classifica una graduatoria degli scudetti più truffaldini della storia e ce ne sono tantissimi perché potresti ricordare quello del 61 ai danni dell'Inter poi a scendere ci sono due o tre episodi che riguardano il Torino poi c'è il gol di Turone a favorire mettiamo così la Roma perché il favorino l'ha avuto anche la Roma e poi dopo ci sono c'è Ronaldo e Giuliano e il povero Simoni che starà ancora piangendo dall'altra parte in un'altra vita e poi ci sono tutti gli altri episodi c'è il gol di Montari fino ad arrivare ai giorni nostri credo che 2017-2018 sia stata una delle pagine più brutte in quanto alla storia proprio dello scudetto italico però aspetto tue considerazioni caro Tommy ma io credo che ne parlo adesso nel senso che quelle che sono in dato di fatti non credo che la politica del silenzio abbia giovato in qualche modo a Napoli e allo stesso della Renzi almeno ufficialmente se poi ci sono stati degli scontri in maniera oscura che noi non sappiamo allora alzo le mani ma sono due anni che non andiamo in cempio quindi questo grande favoritismo a seguito del silenzio di allora credo che non abbia portato al confrutto io credo che lui doveva alzare la voce già da allora però questo silenzio con una denuncia dopo tanto tempo dopo tante situazioni non fa altro che confermare la piena posizione all'interno del sistema che anche il Napoli o lo stesso Benevento hanno dovuto o voluto accettare per cui adesso parlarne secondo me non significa nulla non riesce nemmeno a fare breccia in quello che può essere l'ambiente quello che può essere il tifo perché non si può passare adesso come vittime quando nel momento in cui c'era da fare la guerra alzare la voce al momento opportuno tanto niente abbiamo avuto allora e niente abbiamo avuto negli anni successivi quindi credo che chiaramente il malumore della gente dello tifoso cresca e sia anche giustificato perché anche il senso di distacco no? assolutamente sì non fa altro che acuire e nello stesso tempo confermare quello che è un distanziamento che ormai è sempre più netto fra la società e la città sai cosa Tomi a parte dell'Orentis ma mi fate rivedere un attimo la slide con il virgolettato di Vigorito nel momento in cui Tommy Vigorito dice che uno che non le manda mai a dire è uno molto consapevole di ciò che vale lui e di quello che dà al calcio quando dice dobbiamo continuare a restare in questo mondo e quindi accettare anche certe cose sai come quando ad esempio parlando in un gruppo di amici si sa è andata così ma si sa che va così è amaro molto amaro e questo devo dirti la verità mi ha meravigliato ancora di più rispetto alla dichiarazione di De Laurentiis non conosco il personaggio l'uomo Vigorito per cui credo che effettivamente non è così semplice accettare tutto quello che è successo in maniera così passiva io non dico che non bisogna accettare le regole ma se si è consapevoli che ci sono stati dei torti dei danni secondo me bisogna mettere da parte un attimo quelli che sono gli aspetti economici ma bisogna anche cercare di mettere i puntini sulle i cercare degli alleati cercare chiaramente delle situazioni che possono cambiare ma in quanto meno possono chiaramente dare soddisfazione ai tuoi tifosi ma non ci stanno provando secondo te Tommy perché c'è questo accordo questa vicinanza il problema però Tommy non bisogna far finta di non vedere è che dall'altra parte ci sono dei veri e propri consorsi questo l'abbiamo sempre detto l'abbiamo sempre denunciato e però loro erano ben consapevoli per cui io ritorno a quando Sarri a un certo punto si mise contro tutti e dice sembra ritornare sempre sulle solite cose ma fu così perché in quel momento chiaramente non fu sopportato nemmeno dalla società in quanto sapevano che effettivamente era l'agnello da sacrificare e nello stesso tempo fu mandato allo sbaraglio voglio dire le cose poi vengono in un certo senso tutte a gala io credo che ti ripeto è una amara riflessione quella fatta soprattutto su dei presidenti e in particolar modo Vigorito che sembrava essere molto più battagliero sotto questo profilo andiamo al telefono torniamo al telefono pronto buonasera Silvio Antonio Danapoli ciao Antonio benvenuto buonasera signor mandato buonasera Antonio buonasera allora sono pienamente d'accordo con quello che ha detto il signor mandato però mi dite una cosa se mi potete aiutare a riacquistare la passione perché io testamente l'ho persa un po' vedendo tutte queste situazioni mi vedo la partita però ho perso quella cosa non so o vinci o perdo il Napoli mi hanno tolto la passione insomma proprio in Italia proprio una cosa che non la so spiegare però non mi metto più come prima a vedere la partita andare allo stadio ne hanno tolto un qualcosa non so non so spiegarvelo insomma non so se avete capito quello che voglio dire no questo può essere un attimo di sollivo anche lieve non sei da solo ma sei buona compagnia perché diciamo che la grande passione che rimane per la maglia del Napoli al di là insomma della mia personale noto che praticamente insomma è un fatto comune molto molto comune c'è sempre molto più distacco rispetto a quello che succede in una partita di calcio piuttosto insomma che la grande voglia di seguirla come era una volta sei una cosa parecchi amici miei addirittura mi dicono io non sto seguendo più la Serie A sto seguendo la Premier cioè ma è una cosa grave nel senso che voglio dire noi stiamo in Italia ma perché dobbiamo seguire un altro campionato proprio perché vediamo le cose come se prima cose storte insomma e quindi quella cosa ti dà fastidio però nessuno fa niente passa quella cosa finisce là come il fatto di Suarez non voglio sempre dire però non c'è ma voglio dire o è successa la cosa o non è successa però lo dovete dire non è che rimane la cosa così Antonio se ci sono gli avvisi di garanzia mi sa che qualcosa è successo poi per spiegarlo anche a quelli che intendono poco di questioni giurisdizionali o legislative c'è Tommaso è una sospensiva quella di paradisi per quanto riguarda aspetta aspetta scusami la Procura della Repubblica ciò che è clamoroso te l'ha spiegato Tommaso riguarda la Procura Federale che non avrebbe bisogno neppure del trasferimento degli atti dalla Procura della Repubblica a quella federale per tutto il clamore mediatico che c'è stato cioè l'apertura del fascicolo dovrebbe essere automatico correggimi no è così nel momento in cui chiaramente c'è questa situazione di reato è normale che dovrebbe esserci quantomeno un'inchiesta in merito ma io al di là di questo voglio poi ricordare quella ancora più fresca che è la situazione della Superlega perché chiaramente mi dà mai letta per Milano l'ho dimenticato voglio dire ormai sembra che ci siamo a suoi fatti quasi a tutto ed è una cosa io credo e spero questo adesso per ritornare sul discorso che questo campionato che sembra un attimino più equilibrato possa riportare un po' di entusiasmo o quantomeno possa riportare qualche diciamo segno di passione di positività perché negli ultimi anni davvero è stato unicidiale è stato veramente deprimente a un certo momento è vero comunque per quanto riguarda Antonio e poi ti lascio concludere per quanto riguarda la Premier ma fanno bene quelli che scelgono la Premier anche perché si gioca al calcio ad altissimo livello e poi perché dalla stampa inglese dal The Sun è venuto fuori che quelli del Tottenham i giocatori non le possono più di paratici né lo sopportano in panchina né tantomeno le sue continue lamentele nei confronti degli alberi che serietà addirittura si sono vergognati per come si comporta e pensa che è la normalità esatto è la normalità alla fine comunque facciamo una cosa vediamoci il sennesimo campionato e sperando che mi fanno ritornare la mia passione per il Napoli e chiudo condicendo con forza Napoli e ti do anche la buona notizia accolto il ricorso per Osimen accolto accolto quindi c'è Osimen giocherà dovesse sceglierlo allora già qualcosa si sta muovendo va bene speriamo speriamo grazie Antonio un abbraccio come sempre gentilissimo e buona serata a tutti questa è la notizia dunque che diamo in tempo reale nel nostro linea calcio accolto e quindi dimezzata la squalifica Victor Osimen che ci sarà contro la Juventus a disposizione di Spalletti poi da titolare dovesse ritenere l'opportuno Spalletti ma credo proprio di sì contro la Juve e allora Tommy sono contento siamo contenti chiaramente di questo aspetto positivo di questa risposta positiva è chiaro che dobbiamo essere anche onesti nel senso che il dubbio ci poteva essere e poteva rimanere però ti ripeto con la giustizia sportiva è chiaro che non è mai facile fare delle previsioni ben venga questo risultato ben venga chiaramente la possibilità di poter utilizzare Osimen che obiettivamente oggettivamente dà un'altra visione in questo momento del Napoli soprattutto lì davanti sperando anche di recuperare a più presto spina che diventa credo fondamentale in questo momento per lo schieramento del Napoli di sabato sera allora voglio rispondere soltanto guardate è talmente facile quando hai a che fare col tifoso Juventino che prende la questione con quelli del Napoli i cavalli di battaglia sono scontati il cavallo di battaglia qual è? è la monetina di Alemà ancora siete partiti con ancora all'unisono Tommaso e i colleghi della regia stiamo parlando delle lire perché erano lire erano lire all'epoca erano lire all'epoca e sto rispettando un mezzo minuto di silenzio per i neuroni che sono andati sono partiti tanti va bene allora facciamo così voglio salutare prima l'amico che è in linea al telefono e poi dopo andiamo in pubblicità pronto? ciao buona serata sono Mimmo ah caro Mimmo allora bisogna proprio della pubblicità e poi ripartiamo da te assolutamente sì grazie break e ripartiamo grazie eccoci qui rientriamo in diretta 18-38 minuti dunque ridotta alla squalifica Vittorio Simen che probabilmente un uccellino gli avrà sussurrato la cosa e ha segnato ha segnato con la maglia della Nigeria nel match che è tuttora in corso contro la nazionale di Capoverde quindi Capoverde Nigeria 1-1 gol di Vittor Osimen c'è Tommaso mandato che ha finito l'esultanza perché prima avrà esultato per il gol di Osimen ho dovuto fare una capriola sono rientrato perché lo spazio era stretto ma ce l'ho fatto però caspita sei ancora molto elastico perché sei atterrato nella stessa posizione e c'è Mimmo eccoci Mimmo da te eccomi ben trovato Tommy grazie mi mando a te grazie senti io volevo andare in ordine mettiamo un po' d'ordine alle cose perché qui si stanno un po' confondendo le cose cominciamo da Insigne Insigne dovrebbe avere qualcosa come 120-130 partite di nazionale da quando non gioca più il 3-5-2 di Conte e di Allegri la nazionale Insigne è titolare e fa anche il barbiere il nazionale va anche il lunedì cioè nel senso che non si perde una partita e questa cosa non va bene non va bene anche per sabato tra l'altro perché ora è diventato improvvisamente indispensabile 45 partite di nazionale con le ultime 2-47 però adesso è diventato indispensabile non l'ho capito perché detto questo andiamo subito in ordine io vado a fare una partita di lunedì sera con la primavera della primavera e in più senza portiere con 16 nazionali che mancano eppure mi ricoste Antonio Caro che ha chiamato poco fa direi io purtroppo le ho vissute di persona e quando noi abbiamo perso 3-2 col Milan e abbiamo perso lo scudetto non la qualificazione in Coppa dei Campioni ma abbiamo perso lo scudetto alla fine di quel campionato il presidente del Napoli un certo Corrado Ferlaino prese 4 giocatori senza chiedere niente a nessuno per il collo e gli fece trovare alla stazione centrale i loro bagagli e li mandò via Bagni Giordano Garella e Ferrario questo io glielo chiesi personalmente al presidente della presentazione di un libro e lui mi disse ma non l'ho deciso io me l'ha suggerito il mio amico qua di mandarli via tutti e quattro e quella fu la una anzi la prima vera grande delusione poi c'è stata quella che ha detto il presidente lo scudetto che ci hanno scippato come vedi le cose le potrei raccontare le delusioni sono da morire uno nasce tifoso del Napoli muore tifoso del Napoli perché quando uno ama una persona o una squadra non è che la delusione mi portano a cambiare idea sulla mia squadra del cuore questo ve lo dico per i miei capelli bianchi ma tutto qui mi fermo qui per quanto riguarda questa osservazione Mimmo non lo sentiamo più è caduta la linea caduta la linea ha ricostruito la vicenda legata quello scudetto perso con il calo complessivo della squadra nel rush finale di quel campionato se ne è parlato tantissimo e si dicono ancora tantissime cose su quello scudetto va bene stavo leggendo un po' di messaggi che recupero però mi interessa sapere il tuo pensiero sulla rosa del Napoli Tommaso è vero quello che dice Mimmo e va rimarcato squadra che si è allenata ieri mattina priva di 16 giocatori negli 11 di partenza quanti ce n'erano di reali alternative ai titolari pochi poi dopo Spalletti ha dato spazio praticamente a tutta la primavera e sai cosa pensavo Tommy mi piace questo modo di utilizzare anche lo stadio Maradona e quindi un contatto per un contatto più diretto tra squadra e città in maniera infrasettimanale per lanciare i giovani ci vorrebbe però anche la disponibilità della squadra che ti viene a far visita cioè patti chiari amicizia lunga nel senso si gioca alla stessa maniera perché altrimenti poi l'imbarcata nella batosta in casa non piace a nessuno no infatti non è da mettere in negativo l'idea di fare una partita alternando la squadra diciamo delle seconde linee con quella dei ragazzi che è giusto che ci sia questo impatto anzi spero che sia anche più continuo ma la riproverei come quelle partitine che si facevano il giovedì dove tutti noi andavamo con il giornale sotto a braccio chiaramente non andando a scuola nel senso che lasciare che siano degli allenamenti piuttosto che degli impegni come quello di ieri sera io sinceramente ti ripeto non è importanza il fatto non tanto per il risultato ma è proprio per conoscendo l'ambiente la moretana non ho capito l'importanza di dover fare una partita del genere anche in televisione sotto una certa osservazione in diretta sky insomma tante e tante altre poteva avere una dimensione un attimino più ridotta e una situazione del genere ti passa anche in una maniera più liscia detto e chiuso questa parentesi perché chiaramente non è un argomento secondo me importante ma è molto più importante quello che succederà sabato sera credo che fra le note positive sia quella di aver visto qualche ragazzino che non dico che chiaramente promette però insomma da come è stato raffigurato il settore giovanino negli ultimi anni si comincia a travedere qualcosa che è da tenere poi in considerazione chiaramente con le debite proporzioni nel tempo ti è piaciuto per gara questo ragazzo del 2003? mi è piaciuto mi è piaciuto chiaramente la personalità è inutile fare adesso dei giudizi anticipati però è chiaro che lo vedi subito insomma che ha dei numeri che ha delle situazioni ed è un ragazzo che va assolutamente valutato nel tempo tornevo al telefono pronto? no non torniamo al telefono eh no è caduta è caduta la linea comunque la notizia importante è quella che è arrivata e che vi abbiamo dato ha colto il ricorso del Napoli verso la squalifica di Vittorio Simen dunque Spalletti può tirare un sospiro di sollievo la seconda notizia che gli altri in contemporanea secondo me è ancora più importante cioè lo ritrovi carico perché fa colla anche nazionale è fondamentale in questo momento ritornare proprio al mille per mille sperando che chiaramente il ragazzo si dia non dico un freno ma un contegno a quella della sua grande esuberanza che è un fatto naturale che chiaramente deve imparare a disciplinare e a regolamentare esatto a disciplinarsi perché poi ecco quella voglia di fare quella voglia di dare tutto ho ascoltato Spalletti dire di Osimen cosa vuoi dire cosa vuoi aggiungere niente perché parla la maglia per lui che è sempre una maglia sudatissima lui ci mette il cuore ci mette l'anima però avrà capito io me lo auguro come vanno determinate cose questo sì io mi auguro insomma chiaramente si lavori molto sul carattere di questo ragazzo perché poi l'abbiamo visto in quei 20 minuti diciamo iniziali ha fatto pressione praticamente da solo su tutto il reparto offensivo sì certo il test era quello dei giocatori del Venezia però voglio dire la sua grande speranza la sua grande voglia di voler fare e deve essere preso con un aspetto positivo piuttosto che quelli che possono essere poi i lati negativi che vanno assolutamente limati corta la rosa del Napoli come diceva Umberto ma se dobbiamo guardare le tre competizioni noi abbiamo sempre lo stesso dubbio chiaramente credo che al di fuori degli 11-12 insomma che sono quelli che possono giocare tranquillamente ci sono forse due o tre elementi ieri mi hanno fatto molto sorridere nello stesso tempo tremare la possibilità di vedere Mario Rui a centrocampo tanto per dirti una insomma chiaramente non hai nemmeno dei giocatori talmente utili da poterli utilizzare in più ruoli lo stesso Jesus in questo momento non si può ipotizzare che possa fare tutta la fascia perché ha delle grandi difficoltà ma guarda no tutta la fascia secondo me è utopia perché credo abbia ereditato i chili di Lobotka dello scorso anno aveva il cugino l'utilizionista del cugino di Lobotka cioè tutto quello che non ha fatto Lobotka l'ha fatto lui e quindi perché dico questo perché è stato additato come un'eventuale alternativa a Mario Rui finché Lulamo non si riprende ma credo che in questo momento per esempio su quella fascia sia improponibile perché non ha proprio la possibilità atletica di poterlo fare quindi riduci ancora di più quelle che sono le possibilità e la rosa è tutto da vedere vediamo un attimo come si sviluppa il proseguo della stagione andiamo al telefono pronto sì buonasera ciao carissimo Salvatore ciao Salvatore benvenuto buonasera a te Silver l'altro diciamo amico in collegamento benissimo io volevo solo intervenire sulle dichiarazioni di Vigorito capiamo e conosciamo Vigorito l'abbiamo conosciuto diciamo lo conosciamo dalle sue dichiarazioni dal fatto che insomma è sempre coerente nelle sue diciamo espressioni eccetera eccetera però io credo che sia anche una frase una dichiarazione di circostanza tenendo conto che comunque Vigorito è presente diciamo in serie A e non è quel presidente che resterà dieci anni e quindi è possibile che diciamo riscenderà di nuovo dalla serie A e quindi chiede in un certo senso un aiuto a De Laurentiis quasi come diciamo quasi per prendere punti no? però alla fine sa in cuor suo che la guerra che potrebbe innescare o comunque le contestazioni che potrebbe fare sono delle contestazioni praticamente che hanno una corte agittata nel senso che magari ci vorrebbero 5, 6, 7 squadre di calcio che stanno in serie A da 15-20 anni e allora mettendosi insieme potrebbero cambiare le regole cosa che invece Vigorito sa che non lo può fare e il nostro amato presidente quando le ha tentato di fare si è reso conto che essendo solo non può assolutamente interferire intervenire in certi equilibri e questa diciamo è una condizione che diciamo sul Vigorito eccetera un altro fatto di cui non si parla è il mondo dei giochi al di là diciamo della storia del Tabaccai ma il mondo dei giochi che gira intorno agli sport e non ultimo al calcio che secondo me al di là dei 7 fatti eclatanti che hanno condizionato determinati risultati ma quando un fatto eclatante condiziona un risultato di fatto modifica anche quello che è il gioco la giocata e il risultato quindi c'è un mondo dei giochi gestito praticamente dai monopoli in questo caso che risente di queste decisioni e non innesca la cosa strana non innesca nella giustizia ordinaria un procedimento finalizzato praticamente ad accertare se quel risultato è stato condizionato o ne non avviene come giustizia sportiva figuriamoci diciamo come giustizia ordinaria non interessa praticamente a nessuno però questa è una condizione che trasciniamo ormai da decenni sebbene diciamo in quest'ultimo periodo più telecamere ci sono più diciamo è facile accorgersi e questa è la situazione però nel frattempo noi al di là dei risultati che condizionano l'assegnazione del titolo o la permanenza nella massima serie o addirittura se scendiamo ancora più sotto ce ne saranno chissà quante altre in serie C o in serie B però comunque questo è un fatto che non si parla cioè condizionare un risultato è fine soltanto a quella a quella a quella a quella gara cioè a quella la gara e a tutte quelle altre società che da quella gara potevano praticamente beneficiare in un risultato diverso da quella che poi è stato scritto diventa una reazione una reazione a catena Salvatore grazie per aver chiamato ne parliamo interessantissimi due spunti sul primo vorrei chiuderla lì poi magari Tommaso se non è d'accordo può intervenire conoscendo un po' i personaggi tutti e due conoscendo molto bene Oreste Vigorito non credo ci sia un retropensiero una strategia nella maniera in cui nel momento in cui ieri lui si sia trovato a ricordare ancora una volta il no il dispetto però la decisione sfavorevole decisioni arbitrali sfavorevoli che hanno sicuramente condizionato la stagione del Benevento dico anche che il Benevento ci ha messo molto del suo lo scorso anno per retrocedere dopo il girone d'andata che aveva fatto bene però dinanzi ad arbitraggi scelerati anche il Benevento è stato penalizzato non credo che ci sia strategia retropensiero o la voglia di pensare a coalizioni più o meno forti per poter provare a cambiare il calcio si sa bene che cosa molto difficile che impresa ardua laddove dominano determinati e spiccati poteri detto questo sul tema delle scommesse ragazzi non ne parla nessuno ma dell'Aurentis sì dell'Aurentis spesso e volentieri ha fatto riferimento a vicende molto scure e che muovono milioni centinaia e centinaia e centinaia di milioni miliardi di euro legati al mondo delle scommesse per ultimo nella conferenza romana quindi non è mistero no Tommy no non è un mistero ma è un campo minato molto pericoloso perché devi stare anche attento poi a centellinare le parole lui è abituato ad andare a ruota libera ed è chiaro che diventa pericoloso nel momento in cui vuoi dire vuoi far capire vuoi far trapelare qualcosa gli interessi sono talmente alti i protagonisti sono talmente tanti ed è chiaro che se tu non hai delle prove non hai sicuramente delle situazioni con cui puoi argomentare in maniera molto concreta devi stare molto attento anche alle parole che usi che ci sia questo grande pericolo c'è sempre stato da quando c'era il calcio il cosiddetto calcio scommesse clandestino e anche da quando poi è stata legalizzata la possibilità di poter giocare però sembra insomma che i controlli siano diventati un attimino più efficaci e quindi voglio dire il pericolo c'è ma in un certo senso oggi insomma ci sono anche delle punizioni molto più severe rispetto ai famosi processi che insomma si svilupparono tanti anni fa e quindi insomma non c'è da scherzare soprattutto da persone che guadagnano tanti e tanti soldi apriamo la nostra finestra sulla redazione c'è Tony Iavarone in collegamento con noi direttore ci sei buonasera Buonasera Tommy Ciao Tony che piacere rivederti piacere mio allora Tommy Tony scusami all'unisono arriva la notizia del ricorso accolto del Napoli e Osimena segna con la maglia della Nigeria bene insomma dopo la partita di ieri è la buona notizia quella che senz'altro serve a mitigare la giusta delusione di chi ha visto la partita c'è un twitter molto carino dice immaginate se addirittura fosse stata in pay per view quella partita è vero è vero è vero ma come ti spieghi cioè che idea ti sei fatto sull'evento per come è stato pensato per come è nato per come poi è finito per come si è sviluppato ah Tony discorso serissimo continuano ad esserci problemi notevoli nell'accesso allo stadio ci sono stati anche ieri con file lunghissime quindi visto che molti tifosi ci rimproverano di non dare eco a questa situazione no noi ne parliamo e speriamo che si possa pensare in maniera attiva di migliorare la situazione in vista di sabato che c'è Napoli Juventus assolutamente bisogna incalzare il Napoli nel far sì che i servizi siano puntuali precisi e soprattutto veloci adesso al di là del fatto di entrare allo stadio in tempi possibili e non in tempi impossibili ma noi non dobbiamo dimenticare che non è non è cominciata la festa noi siamo ancora in una situazione difficile per quanto riguarda l'epidemia e quindi la possibilità di non creare assembramenti e quindi file e file lunghissime è un dovere preciso un dovere di carattere sanitario un dovere di polizia sanitaria di quella che è la norma che prevede che bisogna adottare le misure necessarie per non creare altro pericolo insomma se andiamo a leggere i bollettini vediamo che non siamo ancora nel periodo in cui possiamo ballare e festeggiare c'è ancora grande preoccupazione grande cautela e non voglia mai Dio che aumentiamo ancora di più quello che può essere il tasso di contagio quindi deve essere un obbligo da parte del Napoli di accelerare tutta la procedura dei servizi e dice bene comunque Mariano questo messaggio lo voglio leggere ma se si presentano a mezz'ora dall'inizio della partita che colpa il Napoli posso dire che ieri noi abbiamo testimoniato questa situazione perché c'era la nostra inviata Italia all'esterno dell'impianto di fuori grotta il Napoli aveva fatto una nota invitando i tifosi ad anticiparsi almeno fino alle sette e mezza che abbiamo chiuso non c'era nessuno ma è anche presumibile contro la Juventus ma è anche vero quello si possono pure presentare in ritardo caro amico ma se tu crei situazioni di imbuto ti puoi pure presentare otto ore prima all'imbuto resta e anche questo è bello anticipazioni del TG Tony allora le anticipazioni del TG non sono buone notizie come quelle di Osimene apriamo con questa scoperta in Campania si è trovata questa nuova variante del Delta del virus soprannominato variante Delta la Super Delta l'hanno chiamata ci sono molti più ceppi virali che possono destare preoccupazione quindi grande cautela grande attenzione a tutto ciò che può essere fonte di contagio e noi ci colleghiamo con Luigi Atripaldi che è il direttore dell'unità operativa complessa di microbiologia del Cotugno per cercare di capire com'è la situazione all'interno del Cotugno le terapie intensive sono al 100% piene di non vaccinate quindi c'è assolutamente la necessità delle vaccinazioni c'è assolutamente la necessità di capire che quella può essere senz'altro una barriera e anche un argine alla propagazione del virus poi abbiamo tante cose c'è la scuola oggi il ministro Bianchi in commissione al Parlamento ha presentato il piano scuola abbiamo intervistato una presida la preside Enric insomma grossomodo sono le stesse misure dell'anno scorso con l'aggravante però che nulla è cambiato per quanto riguarda la scolarizzazione da un punto di vista di strutture cioè praticamente siamo con le stesse aule quasi dell'anno scorso quindi con la temibile possibilità di creare di nuovo delle classe pollaio anche qui si parla di assembramento e poi c'è Via Acton Napoli che per quanto riguarda la mobilità riceve un premio inatteso e non voluto tutt'altro anzi atteso e non voluto che è quello che Via Acton è la strada la seconda strada d'Italia con il maggior afflusso di traffico con tutto quello che può significare annessi e connessi alla mobilità della città e questa è quasi una emesi storica per quanto riguarda De Magistris il quale aveva iniziato anche bene aprendo il lungomare e che oggi alla fine del suo mandato si ritrova a doverlo riaprire alle auto e a dover abbandonare l'idea almeno per adesso si spera del lungomare liberato Tony appuntamento tra circa mezz'ora in onda con il TG ok grazie a voi grazie ciao grazie a Tony Iavarone io ritorno da Tommy scrive Massimo Di Giuseppe non ci vuole molto per essere migliori di Malqui Zanoli tutta la vita con qualche altro giovane almeno dimostra un attaccamento e Cazzim di Zanoli mi pare te ne abbia parlato proprio io l'ho seguito con attenzione a Castelli Sangro ha ottime referenze ottime caratteristiche fisiche una buona lettura proprio del del gioco e dei momenti della partita quindi il problema sarebbe anche a destra con Malqui eh sì è chiaro che penso che il nostro amico si riferisca proprio al di là dell'adattamento a sinistra che ha avuto Malqui è chiaro che credo che si riferisca all'utilizzo proprio anche a destra questo è un giovane di cui tu me ne hai parlato molto molto bene durante il periodo di Castelli Sangro è un giovane che chiaramente ha un bel passo ha una borsa però ci sono due fattori è un giovane quindi chiaramente deve crescere dobbiamo dare il tempo di crescere e due che ma qui è uno dei contrattizzati quindi in un certo senso devi cercare in qualche maniera non essendo riuscito a togliere un po' di calciatori in soprannumero di dover gestire anche questa situazione andiamo al telefono vediamo chi c'è pronto sono Ciro da Calcaoria ciao caro Ciro benvenuto ti ascoltiamo allora forza speriamo non vedere più quello spettacolo di ieri non ascoltarti dal televisore Ciro abbassa il volume del televisore va bene quando riguarda Dall'Aurendis ma quando riguarda Dall'Aurendis abbiamo aspettato tre anni per dirci che è stato scippato per lo scudetto ma adesso quando dobbiamo aspettare per dirci Verona Napoli-Verona e secondo te cosa è successo in Napoli-Verona Ciro io a favore dell'Aurendis questo sì perché poi alla fine questo è un dato di fatto ma perché è andata così perché 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 se no la Juve falliva quindi cioè il Napoli sarebbe stato disponibile sì per me sì la chiave di lettura di Ciro da Casone va bene Ciro ciao ti ringrazio buona serata ma grazie a te per aver chiamato Tommy il problema qual è? il problema è sempre lì che se c'è quella squadra lì in mezzo nel momento in cui si fa una volata è naturale per quello che è il sistema del calcio italiano che si pensi che nella volata qualcuno ha messo la mano sul manubrio dell'altra bicicletta e l'ha buttata per aria perché è inevitabile che lo si pensi è quasi naturale questo sì il pensiero è il pensiero di molti anche se ormai ci ridiamo in maniera amara su questa situazione perché è una ferita talmente aperta che ancora non si riesce a chiuderla io credo che sì a me non piace nemmeno il fatto che sia stata sotterrata o si cerchi di far passare il tempo e nessuno ne parte perché se ci sono dei dubbi all'interno stesso della società all'interno stesso della squadra io credo che per il bene di tutti vadano detti rotto per rotto lo dici se non lo dici vuol dire chiaramente ne sei cosciente un po' tutti perché non te ne puoi uscire senza dare una spiegazione sperando che poi il tempo lenisca la gente è compresa anch'io io mi metto chiaramente fra i tifosi e fra l'ambiente è una cosa che non ti spiegherai mai al di là insomma di quelli che possono essere le situazioni di campo ma sono state troppe troppe stranezze tutte insieme e mi dispiace insomma che ci ritroviamo a parlare delle stesse cose ma io credo che ne riparleremo sempre fino a quando non ci sarà una spiegazione e Antonio Cosimi ha risolto la situazione perché scrive Napoli Verona organizziamo un amichevole come quella di ieri così sentiamo che ne pensa vabbè voglio legge devo recuperare un messaggio prima di salutarti Tommy Diego Quintavalle scrive buonasera ma di che ci lamentiamo di cose già viste dette inutilmente lo scudetto perso doveva avere giustizia in quell'anno inutile parlare dopo per sfogo comunque bisogna guardare sempre avanti oggi il Napoli non è male è una squadra che può lottare per la Champions League e non parliamo più di scudetti qui a Napoli poteva portarlo soltanto Diego sempre forza Napoli un abbraccio a tutti e dal rione Gescal un saluto particolare a mio figlio Brian che ha appena 40 giorni ma che ha seguito come le due partite iniziali e ha portato fortuna non avevo dubbi non avevamo dubbi e vabbè Ezzelino Stefano Nigro aggiunge se non cambiano i tifosi che sono come i limoni da spremere il mondo del calcio che ha toccato il fondo per tutto quanto succede di poco pulito non cambierà mai e conclude Francesco Ferraro Ferraro nel 2006 abbiamo perso una grande occasione è vero ma che dire che il piccolo Brian sabato sera non prende impegni con nessuno e che sia davanti alla televisione per la terza partita consecutiva questo è il lavoro che ci facciamo tutti noi anche se avrà 45 giorni ma diamogli una poppata davanti alla tv e e poi ti ripeto è chiaro che il discorso va fatto in maniera molto molto tranquilla sotto questo profilo inutile esasperare adesso gli animi o ritornare su discorsi già fatti auguriamoci insomma che il Napoli sabato sera sia in grado di affrontare la Juve con la giusta determinazione con un ulteriore sfizio che non vuol dire forse nulla per quanto riguarda il discorso matematico ma metterli a 8 punti è una piccola soddisfazione che ci dobbiamo prendere Tommy un abbraccio forte grazie grazie a te Silvia e alla settimana prossima un abbraccio ciao grazie a Tommaso Mandato noi andiamo in pubblicità e di rientro ci raggiungerà Franco Di Stasio grandissimo amico e presidente della società italiana di odontoiatria sportiva soprattutto appassionatissimo ed esperto di calcio oggi ha scritto per il Corriere del Mezzogiorno una riflessione che mette l'Azzurro a confronto quello della Nazionale a quello della Maglia del Napoli pubblicità e riprende partecipazione dei nostri telespettatori in questo pomeriggio che ha riconsegnato ha rimesso a disposizione del Napoli di Luciano Spalletti Vittorio Osimen perché è stata dimezzata la squalifica quindi ha colto il ricorso presentato dall'avvocato Grassani e dal suo staff Osimen ci sarà contro la Juventus buonasera e ben trovato ad un nostro grandissimo amico che è il dottor Franco Di Stasio che è anche perché l'etichetta è importante il titolo a parte collega editorialista ho letto il pezzo e lo abbiamo letto questa mattina sul Corriere del Mezzogiorno ma anche tra le altre cose tra i vari interessi presidente della società italiana di odontoiatria sportiva ciao Franco ciao Silber buonasera a tutti i telespettatori di Canale 8 grazie per l'invito ma grazie il tuo sorriso è sempre ben augurante così come la tua presenza Franco nell'editoriale di questa mattina facevi riferimento mettevi a confronto praticamente l'azzurro della nazionale italiana e il nazionale reduce dal pareggio con rammarico sul campo della Svizzera poi Tony Iavarone mi faceva notare un dato che è interessante vorrà pur dire qualcosa nelle ultime sei partite ufficiali dell'Italia quindi comprese quelle della bellissima avventura europea nei tempi regolamentari l'Italia ha vinto una sola volta quindi è un dato che ti offre le caratteristiche della nazionale di Mancini e poi l'azzurro del Napoli con questo allenatore che definisci bravissimo e anche molto spigoloso come Spalletti è un gruppo sostanzialmente valido che che ne abbia detto l'amichevole di cui ti chiedo conto di ieri sera con il Benevento allora Silber allora gli argomenti sono tantissimi comincio dalla nazionale la nazionale di Roberto Mancini che io conosco ed è una persona che stimo tantissimo è una nazionale indubbiamente forte è una nazionale vincente ed anche simpatica però non è in assoluto la più forte nazionale europea probabilmente tu sai benissimo perché come me pratichi e ami lo sport che per vincere c'è bisogno di una serie di fattori una serie di quasi di fattori positivi che si incrociano perché la nazionale ovviamente non ha dimostrato lo strapotere assoluto è una nazionale che vince quando ha la possibilità di mostrare tutte le sue potenzialità quindi devono stare bene si devono divertire devono stare in forma tutta una serie di caratteristiche la mia considerazione è che durante il campionato tutte le nazionali italiane rendano meno rispetto al dopo il campionato italiano perché il campionato italiano è inutile negarlo ruba energie nervose noi stiamo facendo degli studi come presidente della società e come universitario stiamo facendo degli studi per quanto riguarda l'assorbimento le energie nervose quante energie assorbono ovviamente sono energie che vanno sottratte al gioco perché comunque è un costo energetico la mia impressione è che durante il campionato specialmente con partite importantissime come quella di sabato Napoli-Juventus la mia impressione è che la nazionale giochi meno serena e si vedono meno sguardi tranquilli meno sorrisi e più tensione quindi questo è quello che io vedo per quanto riguarda la nazionale una squadra che adoro che ha vinto benissimo ma che ha la necessità per vincere di essere al massimo io parlavo di equilibrio stechiometrico fra tutte le parti in causa il Napoli ieri sera l'amichevole vabbè tu già sai come la penso per me l'amichevole è solamente un modo per definire una partita dove non ci si gioca qualcosa ma per me nessuna partita è amichevole per cui io anche se scapoli ammogliati per quel poco che ho giocato anche in torneio mi sono sempre impegnato al massimo fortunatamente faccio un altro lavoro per cui perché veramente per me la partita di ieri è stata è stata deprimente perché ho visto un grande benevento io sono molto amico di Fabio Caserta e tra l'altro è una persona che stimo tantissimo e so che lui vive di calcio così come stimo moltissimo Spalletti ma in campo ho visto calciatori annoiati e questo sinceramente te lo dico proprio tu sai quanto amo e amiamo il Napoli non mi fa piacere io vorrei vedere grinta anche nella partitella del giovedì sì perché giusto no no è così sono d'accordo con te perché poi la maglia è la cosa che va oltre tutto l'appuntamento serale per quanto venga dopo un allenamento del mattino significa poco perché poi anche c'è spettatori c'è spettatori c'è i bambini io credo molto della funzione che il calcio ha come esempio noi siamo una società martellata da visioni non positive per cui il calcio deve assumere lo sport in generale tu segui il tennis e segui altri sport lo sport ha una funzione veramente educativa non è vero quello che si diceva ma no non bisogna caricare di significati lo sport lo sport è educazione lo sport è rispetto dell'avversario rispetto dell'avversario è anche l'impegno quindi io ieri ho visto una partita da un certo punto di vista ho visto un grande benevento e sono veramente contento perché Fabio è è uno che come noi pensa al calcio non dorme la notte è fantastico però ho visto anche uno spalletti addolorato perché anche lui è uno come Caserta è uno che vive il calcio e certamente non gli fa piacere perdere 5 a 1 poi poi per carità non ha nessun significato per carità però dal punto di vista certo mi ha dato fastidio sinceramente poi invece per quanto riguarda gli azzurri della mia città del mio Napoli è ottimista perché noi abbiamo il più grande allenatore italiano secondo me uno che è ritornato a parlare di calcio che quando parla di calcio parla di tattica di tecnica ed è veramente un piacere ascoltarlo ed imparare finalmente si sono separate le due cose l'aspetto finanziario fondamentale per portare avanti una società ma del quale non me ne frega nulla e l'aspetto invece del campo dei 90 minuti che sono quelli per i quali sono appassionato per i quali vado allo Stato per i quali scrivo e ho indirizzato anche la mia vita professionale su questo ti chiedo una cosa Franco poi andiamo al telefono perché c'è sicuramente un telespettatore in linea in attesa ma Spalletti grande uomo io sono d'accordo con te grande uomo di campo fine comunicatore con i calciatori con i ragazzi per quello che gli ho visto fare nel doppio ritiro prima in Trentino poi a Castel di Sangro e non è facile non era scontato facile Franco arrivare qui e prendere un gruppo che aveva lisciato in quel modo in fausto la qualificazione in Champions League cioè devi ricominciare sostanzialmente da zero ma secondo te Spalletti è contento e soddisfatto della rosa che gli è stata consegnata che poi a fine mercato gli è stata messa a disposizione secondo me Spalletti è talmente bravo e talmente consapevole del suo ruolo che non è né contento né scontento lui ha quella rosa e su quella lavora e fa benissimo e cerca di trarre il massimo dai ragazzi che ha che poi sono anche forti perché diciamo la verità il Napoli secondo me quest'anno è una delle squadre che può competere sicuramente nei primi tre posti e Spalletti questo lo sa certamente tutti la squadra perfetta non esiste esiste la squadra perfettibile ma oggi gli investimenti sono talmente difficili da fare abbiamo un mercato assolutamente dopato da pochi folli che nonostante sono indebitati continuano a comprare di fatto falsando la competizione per cui io credo che Spalletti sia il vero aziendalista tu questo mi dai è come il grande chef dammi tre ingredienti e ti faccio un grande piatto ecco Spalletti è un grande chef andiamo al telefono pronto? pronto? vediamo un po' se il telespettatore ha avuto la pazienza di attendere oppure rilanciamo allora rilanciamo 0815549988 per intervenire in diretta squilla il telefono intanto Franco ci sarà Ozyman meno male meno male perché quella era una cosa sarebbe stata un'ingiustizia incredibile togliere per due partite un attaccante per un fallo veramente guarda sarebbe stato veramente vergognoso io ero molto ottimista e ce l'ha fatta Grassani anche perché poi a distanza di una settimana di pochi giorni ci fu l'episodio di quadrado nella gara con l'Empoli e a me sfuggono alcune dinamiche ditemi quello che volete ma nell'epoca del VAR nell'epoca del calcio vivi sezionato da 30 telecamere ma non si può lasciare passare alcuni episodi impuniti e su altri recuperare per quelli impuniti ma perché? perché a perdere la credibilità stessa del gioco dell'evento Franco dimmi che sbaglio No Silber siamo amici e ci stimiamo perché abbiamo un'identità di vedute su questo e lo scritto hanno inquinato questi dubbi queste cose veramente inconcepibili hanno inquinato il mondo del calcio perché poi naturalmente a pensare male è facile ed è anche normale perché con tante telecamere vedi degli episodi che sono veramente incredibili eppure li continui a vedere io pensavo ti dico la verità e l'ho scritto che il post-covid sarebbe stata una moralizzazione ci sarebbe stata un'etica diversa io vedo gli stessi tuffi mi dispiace dirlo ma insomma ringraziando Dio mi posso permettere di dirlo io vedo le stesse cose che ho visto negli anni passati e questo non mi fa piacere non mi fa piacere perché il calcio lo sport ritorna a quella cosa che ci siamo detti prima devono attrarre gente non devono attrarre dubbi questo è la cosa è così al telefono pronto ciao Silber ciao Felice un saluto al dottor Franco siete stati come sempre qualcosa di meraviglioso grazie avete centrato in pieno il problema il VAR mi ricordi due o tre anni fa a dicembre ho scegato lo chiamo io e che se il ventino chiedesse all'Inter vorranno toglierlo perché perché purtroppo si pensava che non potono fare poi i truffaldini invece continuano e questo è vergognoso perché non si rendono conto che quando uno gioca deve essere pulito linto e pinto questi sono sporchi prima hai detto alcuni tifosi tutto ciò che è capitato ma io ti faccio un esempio banalissimo il signor Bonucci andò a Milano è tornato a Cagliù perché la lo facciavano fuori e lo ammonivano che dimostra questo Silber io dico Presidente ma no Susy Man mettici la maglia bianconera no ma sabato no sabato no io no perché il Napoli ho nel cuore nella mente e altrove nell'anima non lo abbandonano mai io amo Napoli è il Napoli noi del sud dobbiamo smetterla di fare i piagnistei perché quello in Langoppa tu lo sai 31 anni a Torino non ci fanno avere noi dobbiamo essere uniti invece no abbiamo in caso un uorto giuventini campani pugliesi siciliani calabresi ti fate per il nostro calcio sud 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 vi voglio bene sempre sempre Napoli azzurra grazie un abbraccio forte hai fatto il tuo appello no ad unificare l'unificazione sotto la bandiera azzurra tu vorresti questo io invece da Franco vado per sottoporre quello che ha detto quello che hanno detto ieri sera a Braccetto perché un'intervista a Braccetto dell'Aurentis è vigorito a proposito del sistema dell'Aurentis è stato condannato dalla stragrande maggioranza dei tifosi che dice Franco ma è chiaro che nel 2018 abbiamo visto tutti cosa è successo quell'anno lì che il Napoli di Sarri o lo si fermava in un determinato modo con determinate maniere o andava a vincere lo Scudetto perché il Presidente non ha fatto fuoco e fiamme già all'indomani di Inter-Juventus e viene fuori a distanza di tre anni parlando di scippo oggettivamente secondo me bisogna anche capirlo perché se fai parte di un sistema tu devi cercare anche di tutelare il sistema il sistema a volte subisce dei meccanismi di autoprotezione tutti sanno che c'è qualcosa che non va e molto spesso dall'interno c'è difficoltà ad ammettere questa cosa perché è comunque un'ammissione di non dico di collusione ma comunque un'ammissione di accettazione di cose che non vanno per cui lo fai a distanza di tempo quando gli animi si sono calmati ma io ricordo quello che è successo per molti di noi quello è uno scudetto nostro poi si può discutere poi ci sono successi delle cose stranissime lo scudetto perso in albergo detto da Sarri che si presta a mille interpretazioni quella è una pagina buia però io sono abituato a guardare avanti nel couch perché dopo tre anni che tu ritorni i ricordi non sono più reali sono falsati da quello che è la nostra passione e anche dai dubbi indotti io la penso peggio di quello che la pensavo nel 2018 perché nel frattempo c'è stato il 2019 e il 2020 la visione è peggiorata e quindi non sono più affidabile e quindi magari il Presidente la stessa cosa è parla di scippo perché la vede col senno di poi perché nel frattempo sono successe altre cose che oggettivamente legittimano i sospetti anzi proprio i controfirma sono andati oltre i episodi sono andati oltre poi ci si mettono anche quei buontemponi delle Iene poi ci si mettono anche quei pochi giornalisti di inchiesta che sono rimasti a farci vedere un po' di cose quando il dubbio diventa certezza a distanza anche di tre anni poi dici cazzo cioè cominci a dire oh ma che è e quindi abbiamo avuto la materializzazione degli incubi peggiori in questi anni dopo il 2018 2019 e quindi è giustificato che si parli dopo tanto tempo io avrei fatto un casino incredibile anche prima ma io non faccio testo perché sarei già stato squalificato mille volte quindi sarei senti Franco ma sabato alle 18 cosa fa vabbè sicuramente uscirai andrai in giro guarda io sabato tu sai che io lavoro sempre sabato lavoro moltissimo sabato ho una consulenza in costiera sorrentina ah e vado in moto anche se dicono che il tempo non è un granché perché io alle 6 ho un impegno importante o un aperitivo ecco ah è un aperitivo è chiaro poi vabbè ti do io la notizia no ti do io la notizia perché sicuramente ti è sfuggito sabato alle 18 proprio a quell'ora lì c'è Napoli-Juventus avendo un po' visto questo inizio difficile di campionato della Juventus di cui non mi fiderò mai 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 e invece il Napoli che ha fatto un play nelle prime due partite senza strabiliare che match prevedi sabato? la solita partita delle partite dove i provinciali come me le danno un valore certamente superiore a quel valore che è per me battere la Juve è un mezzo scudetto io lo confesso poi sono posso essere tacciato di provincialismo e lo sono perché nella partita con la Juve assumo un significato diverso quindi mi aspetto in campo veramente io purtroppo sarò a prendere questo aperitivo non lo seguirò neanche per radio ma mi aspetto mi aspetto veramente insomma una guerra in campo guerra sportiva parlo certo per me lo sport è competizione e ritorna Allegri Spalletti è il ritorno Allegri Spalletti e credo proprio che Spalletti abbia voglia di dimostrare tutto quello che c'è dentro perché è uno che veramente mi ha stupito io lo conoscevo poi un nostro amico comune che posso anche citare che è Francesco Montervino me ne ha parlato talmente bene tu sai che Ciccio e io siamo come due fratelli me ne ha parlato talmente bene ma già prima che venisse a Napoli ci volevo sempre sostenuto che questo è un uomo di calcio vero è un grande tecnico è uno che sa dove parlare nello spogliatoio e conosce conosce il calcio e ti dico che da quando arriva da Napoli devo dire che Ciccio che normalmente di calcio ne capisce moltissimo ha avuto ragione mi dispiace ammetterlo perché sai che vorrei contrastarlo però ha avuto ragione Doc sono contentissimo di averti rivisto seppure in collegamento ma ormai sono maturi i tempi per riappropriarci dello studio e farlo con i nostri ospiti grazie andiamo Silvere perché è un segno che va tutto bene questo è importante un abbraccio fortissimo Doc grazie ancora grazie a te grazie a tutti per l'invito grazie a tutti arrivederci grazie a Franco Di Stasio che ha impreziosito questo appuntamento di Linea Calcio noi ci fermiamo subito dopo la sigla le news con il nostro telegiornale e torniamo domani con Linea Calcio alle 17.45 ciao